Il fatto che noi siamo costretti, anche su temi di questa portata, a riunirci in Commissione, negli spiccioli di tempo che si salvano dall'Aula mattina e pomeriggio. Anche al Senato c'è una seduta molto importante che sta per riprendere, che è quella sulle unioni civili e con votazione. Quindi io mi domando se i Presidenti delle Camere possano provare, sembra che non siano riusciti ad ogni assaggio, siano stati respinti, se possano provare a convincere i rappresentanti dei gruppi parlamentari che bisogna chiedere a deputati e senatori di spendere qualcosa in più delle 30-40 ore settimanali che dedicano al Parlamento in maniera che ci sia uno spazio decente per discussioni serie nelle Commissioni, che sono state il fulcro dell'elaborazione del confronto e del prestigio del Parlamento per decenni.